Il programma Amici di Maria De Filippi è uno dei talent show più popolari e di successo in Italia? Ci sono diverse lezioni di marketing che possiamo trarre da questo programma. Conoscere il target di riferimento, Amici si rivolge principalmente a un pubblico giovane e cerca di coinvolgerlo attraverso temi e sfide che rispecchiano i loro interessi e passioni. Creare un'identità di marca forte, il programma ha costruito un'identità chiara e riconoscibile, basata sulla figura di Maria De Filippi, un personaggio carismatico e amato dal pubblico. Utilizzare il potere del storytelling, il programma racconta le storie personali dei partecipanti, creando un legame emotivo con il pubblico e rendendo i protagonisti memorabili. Creare engagement attraverso l'interazione, Amici incoraggia la partecipazione attiva del pubblico attraverso il televoto, i social media e altre forme di interazione, coinvolgendo e fidelizzando i telespettatori. Sfruttare le collaborazioni strategiche, il programma si avvale di giudici e ospiti celebri, che aumentano l'interesse e la visibilità del programma stesso. Innovare costantemente, Amici si rinnova continuamente, aggiungendo nuove sfide, formate contenuti per mantenere il programma fresco e attuale. Creare un'esperienza coinvolgente e multisensoriale, il programma combina musica, danza e intrattenimento visivo per offrire un'esperienza completa e coinvolgente. Valorizzare i talenti, Amici offre ai partecipanti l'opportunità di mettersi in mostra e crescere professionalmente, creando un'immagine positiva del programma come trampolino di lancio per nuovi talenti. Utilizzare il marketing cross mediale, Amici sfrutta vari canali di comunicazione, come tv, radio, social media e riviste, per promuovere il programma e raggiungere un pubblico più ampio. Monitorare e adattarsi alle tendenze del mercato, il programma ha saputo evolversi nel corso degli anni, adattandosi alle tendenze musicali e dello spettacolo e alle aspettative del pubblico.